Totalmente inadeguata, sostanzialmente i partiti politici italiani sono come i polli di Lorenzo nel romanzo dei promessi sposi di Alessandro Manzoni, che si beccano l'uno con l'altro senza capire che stanno finendo entrambi in padella. Questo programma, questo progetto di risanamento è una dichiarazione di guerra dei governi e del governo europeo nei confronti dei popoli europei, questa è l'unica definizione possibile. Stanno pensando e progettando di far pagare alla gente europea, a tutti i popoli europei, in primo luogo ai greci, a noi, agli spagnoli, ai portoghesi, il disastro che la finanza mondiale ha compiuto. Non ci sono più dubbi in merito, la finanza mondiale ha letteralmente spolpato la ricchezza del pianeta, a cominciare da quella americana, seguita naturalmente e fedelmente dalle posizioni assunte dalla Banca Centrale Europea, la quale ha, insieme alla Federal Reserva Americana, praticamente salvato tutte le banche che erano andate in fallimento nel 2007-2008, indebitando tutti gli Stati oltre ogni limite. Quindi sostanzialmente noi stiamo pagando il disastro creato da Wall Street e dalle banche di investimento mondiali, tra cui molte banche europee e adesso pretenderebbero di imporci un programma di risanamento che significa letteralmente spolpare i redditi e il welfare state, quello che resta, delle popolazioni europee. Quindi questa è la vera spiegazione e non ci sono in realtà, non ci dovrebbero essere discussioni in merito, in realtà i partiti e i governi che hanno autorizzato questo disastro sono tutti corresponsabili e adesso non avendo capito nulla prima, continuano a non capire nulla neanche adesso. Questo non è un programma di risanamento, questa è la guerra dei finanziari, della finanza contro le popolazioni, si chiama così, questa è una dichiarazione di guerra della finanza europea e internazionale contro le popolazioni. La mia proposta è molto semplice, non accettare questo ricatto, perché chi deve pagare sono irresponsabili, ci hanno detto, ci hanno ripetuto fino alla nausea che il mercato ha delle leggi, se queste leggi valgono loro devono pagare, perché avendo fatto male i banchieri e essendo andati in fallimento devono rispondere, non siamo noi che dobbiamo rispondere, prima di tutto perché non siamo noi cittadini che abbiamo preso queste scelte perché non sapevamo nulla di quello che stavano facendo, prima questione fondamentale, secondo perché essendo nessuno informato di ciò che è accaduto loro hanno potuto fare quello che volevano, quindi chiedere adesso il pagamento dopo che, aggiungo questo piccolo dettaglio, dopo che noi siamo stati tutti educati negli ultimi 30 anni a consumare e a dilapidare tutte le risorse, perché ci hanno detto che bisognava consumare e indebitarsi, adesso ci accusano di esserci indebitati e di avere consumato, ma se ogni giorno, ogni giorno, da ogni televisione ci viene ripetuto che dobbiamo cominciare e continuare ad oltranza a consumare, come possono chiedere a noi di essere responsabili del fatto che milioni di persone hanno consumato? Perché di fatto il nostro indebitamento collettivo, a cominciare da quella americana, perché sto parlando dell'Europa, ma l'America è dieci volte peggio da questo punto di vista, l'America è costretta di fatto a essere ormai in bancarotta, perché? Perché hanno consumato molto più di quello che potevano consumare, molto semplice, quindi tutta questa è una grande commedia, è una grande commedia che viene recitata in parte da veri e propri farabutti che sono i grandi detentori della finanza mondiale, veri e propri criminali, lo dico senza mezzo termine, a cominciare da Alan Greenspan che dopo aver trascinato il mondo in tiro nel disastro, ha detto in un'intervista al New York Times un anno fa, mi pare un anno e mezzo fa, scusatevi mi sono sbagliato, se si è sbagliato una volta bisognerebbe dire di non parlare più per favore, quella gente lì dovrebbe andare tutta in galera direttamente, quindi in primo luogo, secondo i governi che hanno consentito alle banche di emettere denaro più di quello che ne avevano, le banche non hanno nessun obbligo di mantenere delle riserve adeguate, prestano soldi che non hanno e su questi soldi che non hanno chiedono l'interesse e in questo modo le banche hanno moltiplicato e incigantito, parlo delle grandi banche naturalmente, la massa monetaria interamente falsa e interamente fasulla, noi stiamo vivendo la crisi che loro hanno creato letteralmente minuto per minuto negli ultimi vent'anni, quindi questa qui ho la gente capace di rispondere e di reagire organizzandosi, rifiutando di pagare e quindi anche ricorrendo a tutte le forme di difesa della propria esistenza e del proprio territorio come stanno facendo per esempio quelli che si difendono contro l'alta velocità in Val di Susa, faccio questo esempio specifico perché è esattamente la stessa cosa, proprio questo che bisogna fare, bisogna dirgli voi siete una manica di irresponsabili, noi non accettiamo le vostre decisioni e difendiamo la nostra vita, il nostro territorio, il nostro cervello, le nostre vite, i nostri corpi, la nostra salute, l'educazione dei nostri figli, i nostri ospedali, le nostre città, noi questo dobbiamo dire, tutti insieme e questa è una proposta politica. Io sono certo che questo scontro sociale sta per esplodere perché fino adesso noi non abbiamo ancora visto niente, finora ce lo hanno soltanto annunciato, ho letto un editoriale di un certo Sensini, so chi è un economista, il quale addirittura dice bisogna abolire le pensioni di anzianità, ma questa gente ci sta dichiarando guerra sul serio, stanno dichiarando che devono togliere le pensioni di anzianità a milioni di persone, che vuole dire che praticamente un terzo della popolazione verrà gettata sull'astrico, se arrivano a fare queste proposte vuole dire che sono convinti di potercela fare, bisogna spiegargli che non ce la faranno. Io ritengo che quello che è successo e sta succedendo in Grecia è soltanto l'inizio, quando la gente a milioni verrà posta di fronte a condizioni insostenibili si ribellerà, è evidente che si ribellerà, avverrà in che forma non lo so, a Londra sta avvenendo nella forma di una giaccherie assolutamente senza obiettivo perché non ci sono partiti che guidano questo movimento, sfortunatamente non ci sono forze politiche capaci di guidare in modo responsabile, perché tutte le forze politiche, sinistra, destra e centro, sono tutte implicate in questa operazione. Quindi siccome non ci sono forze politiche che guidano in modo responsabile un movimento di protesta, sfortunatamente questa protesta sarà violenta. Io non propongo di fare proteste violente, ma temo fortemente che quando queste misure verranno messe in atto ci saranno risposte violente, perché la gente non essendo organizzata e diretta reagirà in modo immediato e spontaneo e quindi si andrà a degli scontri sociali di grandi proporzioni, questo diventerà un… si incendia l'Europa, la politica della Banca Centrale Europea e dei governi centrali che sostengono quella linea sta incendiando l'Europa, le conseguenze sono interamente nelle loro mani e la loro responsabilità è in questo senso assoluta. Ma quale lezione? Questa intanto non è un'opposizione, questa opposizione non fa opposizione a niente perché che cosa dice? In sostanza che cosa dice? Dice che faranno quelli che dovessero sostituire l'attuale governo, dice che faranno esattamente le cose che gli sono state imposte dall'Unione Europea e da Francia e Germania, questo è quello che dicono. Quindi se va al governo un'altra coalizione farà esattamente le stesse cose che ha fatto questa, probabilmente le farà addirittura con maggiore spregiudicatezza fidandosi del fatto che potranno dire di avere tra virgolette il consenso popolare, quindi io non ho nessuna fiducia nell'opposizione, nessuna fiducia nelle loro proposte, naturalmente non ho neanche nessuna fiducia nei confronti di questo governo, la mia proposta è via tutti questi cialtroni dalla direzione politica del Paese, ci vuole un gruppo di saggi al quale venga affidato il compito di gestire il rapporto con la popolazione italiana, di gestire il patto sociale che si regge sulla Costituzione, rifiutando innanzitutto le modifiche costituzionali che ci vengono imposte da questa Europa che è l'Europa dei banchieri. La soluzione politica in questo contesto con queste forze non c'è, quindi bisogna trovare un'altra coalizione, un'altra forza politica che sia espressione della volontà popolare, in questo momento non c'è, ma non mi si venga a dire che l'opposizione che dovesse andare al governo al posto di Berlusconi rappresenta questa forza popolare, non la rappresenta. Grazie a tutti!